Ciao, mi chiamo Michael e lavoro come agente immobiliare in credo in casa. Ho iniziato a lavorare in questo settore sin da giovanissimo, all'età di 19 anni. Fu mia madre a trovare l'annuncio con l'offerta di lavoro e a spingermi ad inviare la mia candidatura. Le cose andarono bene e così ho iniziato a lavorare nella sede di crema di un noto franchising immobiliare. Ho svolto questa attività per ben 12 anni, raggiungendo nel tempo un ruolo con sempre più responsabilità. Ad un certo punto però qualcosa si è rotto, così ho deciso di cambiare totalmente settore. Ho iniziato a lavorare come operaio per 7 anni. Questa parentesi della mia vita mi ha permesso di raggiungere la mia stabilità economica. Mi sono sposato, ho messo su famiglia e ho deciso di fare il grande passo nel 2021, quando ho comprato casa. Indovina dove? Casualmente qui, con 3D in casa. Ma in quel momento non immaginavo minimamente cosa mi avrebbe riservato il destino. Dopo 7 anni la nostalgia del mio vecchio lavoro da agente immobiliare ha iniziato a bussare alla porta, sempre più forte. Così ho deciso di tornare in questo mondo che tanto mi aveva affassionato da giovane. Alla soglia di 40 anni mi sono rimesso in gioco e ho colto l'opportunità offerta da Loretta e da 3D in casa. Oggi, dopo un anno e mezzo, sono ancora qui. Mi sono ambientato alla grande e sto creando il mio giro dei clienti. Mi sto togliendo diverse soddisfazioni.